Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del notiziario è dedicata alla protesta degli operai dell'indotto dello stabilimento Eni. Continua nei blocchi sulle strade di accesso al complesso industriale. Ai lavoratori dell'elettroclima e della nuova X-Gamma oggi si sono aggiunti anche quelli della ditta nuove strade destinatari di lettere di licenziamento. E intanto la drammatica vicenda gelese è balzata alla cronaca nazionale con l'inchiesta dell'eccellente redazione di Report. Sulla pagina ufficiale di Facebook della fortunata trasmissione televisiva di Ray3, anche le tempestive risposte dell'azienda del Cana Seizampe e una cascata di commenti di comuni cittadini di ogni parte d'Italia interessati alla vicenda. Vediamo. Altra notte l'addiaccio per i lavoratori dell'elettroclima e della nuova X-Gamma è la quarta di seguito. I presidi sulle strade d'accesso alla raffineria continuano. Il freddo è pungente e per riscaldarsi si trovano sistemi artigianali. La situazione è particolarmente tesa. Un Natale amarissimo, l'albero addobbato con le lettere di licenziamento nella testimonianza più evidente. E questa mattina altra doccia fredda. Ai blocchi si sono presentati due lavoratori della ditta Edile, nuove strade, destinatari di altrettante lettere di licenziamento. Non ci sono ammortizzatori sociali, nessuno ci ha aiutato. Siamo qua per chiedere un aiuto, abbandonati proprio da tutti. Sperando che qualcosa magari si risolva, perché ognuno di noi abbiamo famiglia, mutuo, figli, scuole. I ragazzi devono andare a scuola, non sappiamo più cosa fare. Noi stiamo lottando per avere un po' di pane qua, sulla nostra terra, non per andare fuori altrove. Dopo 37 anni che ho lavorato dentro lo stabilimento, tutto un tratto mi vedo senza lavoro, senza niente, senza nessun sussidio. In quanto aspetto qualche chiamata magari, perché essendo disoccupati, dopo 12 mesi, 14 mesi, già è fuori uno. E non sa dove deve andare. Quindi per me non c'è nessuna speranza. Aspetto qualche chiamata che mi dicono, guarda c'è un prepensionamento, c'è qualche cosa. Tutto ciò, ormai il mio futuro magari sarà di avere un prepensionamento, qualche cosa per essere di utile anche per la mia famiglia. Intanto la sezione locale della Croce Rossa ha montato una tenda nei pressi dei blocchi per permettere ai lavoratori di ripararsi dal freddo. Un segnale di vicinanza in un momento assai difficile. Il parroco della chiesa San Francesco d'Assisi, Don Giorgio Cilindrello, celebra la messa all'aperto per i lavoratori dell'indotto. Vediamo. Messa all'aperto questa mattina i blocchi degli operai nei pressi dello stabilimento Eni. La celebrata Don Giorgio Cilindrello, parroco della chiesa San Francesco. La chiesa, ha detto il prelato, sta con gli operai portando una parola di conforto, un segnale di vicinanza. Lo spiraglio ci deve essere, ci deve essere in qualche modo, deve risorgere questa città che a quanto pare ha tanti nemici. Non è solo il grande mostro che possiamo definire politica, ma ha tanti amici. Quindi dietro questa azione distruttiva io penso che ci sia anche un qualche movimento occulto o manifesto contro la famiglia. Io non dico che non c'è politica per la famiglia, ma c'è contro la famiglia. Queste sono famiglie, hanno bambini, hanno delle spose, delle situazioni, dei mutui a carico. Cosa fanno? Cosa faranno? Si ripete il déjà vu del luglio dell'anno scorso, no? Non è possibile, non è possibile. Una città che era vocata al turismo per la bellezza, per la centralità, l'abbiamo fatta diventare città industriale e adesso l'industria abbandona e vuole abbandonare le famiglie, la città. Non è possibile. E con lei quando parla di nemici a chi si riferisce nella fattispecie? Chi ce l'ha contro Gela? Contro i lavoratori? Contro i lavoratori c'è la... penso la politica, perché non si capisce perché vogliono azzerare tutti i siti dove, specialmente quelli del sud, tutti i siti del sud stanno chiudendo tutti o quasi tutti. Per i lavoratori che protestano giustamente, per le famiglie dei lavoratori che vivono una situazione difficile, per i figli dei lavoratori, le chiedo che Natale sarà? Un Natale carico di ansia, di ricerca, di prospettiva per il futuro, dove lì nessuna prospettiva, nessuna promessa. Prima c'erano le promesse, ora si sono resi conto che ormai le promesse nessuno dà conto, perché evidentemente l'espressione dei cittadini poi si risolve lì alle urne, ma evidentemente qualcuno forse aveva avvertito di certi passi che avrebbero messo in ginocchio la città. Tra il 1994 e il 1997 avrebbe commesso rapine e distorsioni la Procura della Repubblica, su richiesta del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minori di Caltanissetta, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere destinatario del provvedimento restrittivo il gelese Mariano Bonvissuto, 46 anni, arrestato dai carabinieri. La valenza sociale e politica della misericordia, quale volontariato per il bene comune, è il tema che è stato trattato dal Vescovo della Diocesi di Piazza Medina, Monsignore Rosario Gisara, nell'ambito di un incontro che si è svolto nella Casa del Volontariato di Gela, alla presenza di tutte le associazioni di volontariato locali. A promuoverlo sono stati la Casa del Volontariato, il coordinamento delle associazioni di volontariato, il Movi e la delegazione di Gela del CESVOP. Il volontariato è una bellissima risorsa, una grande risorsa che può veramente ribaltare le sorti della nostra città, ovviamente nella misura in cui ci si mette assieme, nella misura in cui ci collaboriamo, cioè il concetto di cooperativa secondo me è proprio legato a questo, cioè il fatto che effettivamente ognuno possa dare la mano all'altro e insieme tentare in tutti i modi di fare perno sulle criticità della nostra città, ma poi direi anche della società tutta. Appellandomi al Papa, penso che quello che lui desidererebbe in questo momento è la vicinanza ai poveri, ed è quello che dobbiamo fare, devo farlo io evidentemente, ma con me e tutta la comunità ecclesiale, cioè questo è quello a cui noi dobbiamo tendere, questa vicinanza ai poveri, che comunque in città questo aspetto dei poveri assume un volto ben preciso, che sono appunto le famiglie che in questo momento hanno perso il lavoro, stanno prendendo il lavoro, quindi noi dobbiamo assolutamente essere vicini a loro. La missione sociale del volontariato non è di supplenza o di integrazione dei servizi pubblici, ma di promozione e sostegno all'autonomia delle persone per contribuire al loro benessere, a quello delle loro famiglie e delle comunità locali, ha detto Enzo Madonia, presidente del Movi di Gela, tra i promotori dell'incontro. Dalla periferia vogliamo insieme dire, con la selezione del volontariato e con la presenza del Vescovo, della necessità di accendere una luce, di accendere i fari sulle periferie della città, ma sulle periferie esistenziali, sulle povertà. C'è la necessità, visto il periodo che stiamo vivendo, di costruire una forte coesione sociale. E sabato scorso il Vescovo Monsignor Rosario Gisano, nella Basilica Cattedrale di Piazza Armerina, ha inaugurato il Giubileo della Misericordia in Diocesi. Hanno partecipato i sindaci dei 12 comuni della Diocesi, il prefetto di Enna, i presbiteri della Diocesi e circa 2500 persone. La suggestiva celebrazione che ha avuto inizio nella chiesa stazionale di San Rocco Fundro, con la lettura della bolla d'indizione del Giubileo indetto da Papa Francesco, è proseguita con la processione fino alla cattedrale, dove al suono del corno e delle trombe, il Vescovo ha aperto la Porta Santa della Misericordia. In una cattedrale gremita, il Vescovo ha annunciato che oltre la Porta Santa in Cattedrale, aprirà altre due porte sante. A Gela, il 6 gennaio, presso la Piccola Casa della Misericordia e a Enna, presso il centro di accoglienza Santa Lucia. Inoltre, si potranno ottenere le indulgenze giubilari, anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità, nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo del progetto Martina sull'importanza della prevenzione dei tumori. Vediamo. Parliamo con i giovani dei tumori. Si tratta del progetto Martina, promosso a Gela dalla Lions Club del Golfo, preseduto da Eugenio Piazza. Incontro nell'aula magna della Liceo delle Scienze Umane Dante Alighieri. Il progetto, che coinvolge ogni anno circa 150.000 studenti italiani, ha come obiettivo quello di portare a conoscenza dei giovani che oggi è possibile evitare molti tumori ed aumentare la probabilità di guarigione con la conoscenza e l'applicazione di semplici accorgimenti. Quando parliamo di prevenzione, dobbiamo necessariamente riferirci innanzitutto ai giovani? Soprattutto ai giovani, perché la prevenzione fatta in età adolescenziale o comunque in età giovanile si accertezza è la reale prevenzione, cioè quella che evita l'insorgenza purtroppo in età più avanzata, evitando quindi che poi diventi più difficile poter intervenire. Ed è bene diffondere questa cultura tra i giovani, perché la prevenzione è soprattutto un fatto culturale, più che sanitario. Bisogna che ci si convinca dell'utilità della prevenzione, che tra l'altro, oltre che prevenire la salute, la salvaguardia della salute, serve a prevenire anche quelli che sono problemi di carattere sociale, perché il costo sociale nel dovere curare ciò che è possibile, invece stroncare al sorgere, è un fatto molto importante. E lei è mai capitato di salvare la vita a qualcuno grazie a questi incontri? Sì, questi incontri abbiamo sperimentato ormai in questi anni, che sono importantissimi. Importantissimi perché vediamo che i ragazzi sono molto attenti alla prevenzione e soprattutto ricordarlo è importante. Se noi diciamo solo che un tumore, ad esempio della mammella, da un millimetro a un centimetro impiega dieci anni, e noi abbiamo purtroppo sperimentato di giovani donne di 26 anni con tumore alla mammella, è importante in questi anni cominciare a ricordare alle donne che esiste la prevenzione. E noi facendo la prevenzione, come mi è stato detto precedentemente, possiamo veramente salvare le vite, perché un tumore scoperto al di sotto di un centimetro può veramente far guarire la donna. Seconda mostra di presepi, presepi in comune realizzata dalle scuole locali, promossa dall'associazione turistica Proloco Gela, si terrà dal prossimo 19 dicembre al 6 gennaio al Palazzo di Città. Previsti intrattenimenti, degustazioni, l'ingresso è libero dalle 10 alle 12.30, dalle 17 alle 20.30. L'inaugurazione avrà luogo il 19 dicembre prossimo alle ore 18.00. Continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal comune di Gela fino al 6 gennaio nei locali di Palazzo Ducale, mostra di presepi vita di Gesù di Francesco Bonvissuto. Fino al 10 gennaio, pattinaggio sul ghiaccio e venti mostra di presepi, albero della vita nel piazzale della chiesa di San Rocco, a Cantina Sociale. Sempre fino al 6 gennaio al Palazzo Regina Margherita, presepi artistici. Fino a domani nella chiesa San Biagio, mostra dell'artigianato femminile Creativè Natale 2015. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale, vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle ore 21.00. Con 10 domande 10, ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà il dirigente scolastico Grazio Di Bartolo. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica successiva alle 18.00. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi a tra poco. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, Il terzo circolo didattico di Gela, diretto da Angela Tuccio, organizza per domani l'evento Apro le mie finestre al mondo, rivolto a tutta la cittadinanza. Nei suoi plessi, Santa Maria di Gesù e Benedettine, dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 17, gli ospiti verranno accolti da mini guide, accompagnati lungo un percorso che li porterà a visitare le aule 2.0 aumentate della tecnologia, ad assistere alle attività che la scuola attua, e a conoscere i progetti proposti, tesi a realizzare al meglio le azioni del piano nazionale Scuola Digitale. Cambiamo ancora argomento, adesso ci occupiamo di sport, c'è il calcio, poker di gol del Gela sul Dattilo Noir, i biancazzurri adesso si avvicinano alla vetta del campionato di eccellenza, i particolari in questo servizio. Termina con la netta vittoria del Gela, lo scontro diretto contro il Dattilo Noir, un 4-0 che consente alla squadra di mister Totto Burculeri di soffiare il secondo posto nel girone A del torneo di eccellenza, proprio alla formazione ospite, e di mettere nel merino l'attuale capolista sancataldese, distante appena 4 punti. Per il Dattilo Noir, quella rimediata ieri, è la prima sconfitta lontano dalle mura amiche, mentre il Gela ritrova il successo davanti al proprio pubblico. Sin qui sembrerebbe la normale conclusione di una partita di campionato tra due grandi squadre, in realtà, ieri pomeriggio allo stadio Presti è successo di tutto, tre spulsi, cinque muniti, un parapiglia all'interno del tunnel che conduce agli spogliatoi, alla fine del primo tempo e la tensione che si tagliava a fette, tensione sportiva ovviamente. Quella sana rivalità tra due squadre che non vogliono perdere e che spesso sfogia in un eccessivo agonismo in campo. Alla fine infatti, tutto si è dissolto come neve al sole ed una doccia fredda per calmare i bollori di una partita vera tra due ottime squadre. Una gara che si è messa subito in discesa per i padroni di casa quando al tredicesimo del primo tempo l'arbitro vede una gomitata di paladino su alma lanciato in porta ed espelle con un rosso diretto il giocatore del Dattilo che lascia così i suoi compagni in inferiorità numerica. Con un uomo in più la gara dovrebbe mettersi in discesa per i padroni di casa ma non è così, tant'è che il Gela fatica comunque a trovare spazi. Al 26esimo ci prova Mincica ma al suo tiro è una telefonata per l'estremo difensore del Dattilo. Al 34esimo ancora una conclusione di Mincica servito da Bonaffini palla deviata in angolo. Dopo due minuti doppia conclusione di Nassi su cross di Cosentino palla ancora una volta in calcio d'angolo. Al 37esimo Vella servito da Bonaffini spara alto da buona posizione. Alma poco dopo gira debole di testa palla al portiere ospite che ringrazia. Brucculeri boccia Lander Vella mettendo il più intraprendente Iannizzotto. Al 43esimo Campanaro su cross di Cosentino manca di un nulla l'aggancio fondamentale. Fine primo tempo è parapiglia che si scatena nel tunnel che porta agli spogliatoi. Alla rientro all'appello mancano Runza e del tecnico Brucculeri per il Gela. Il portiere bevi l'acqua per gli ospiti. In 10 contro 9 si aprono delle praterie ed il Gela ne approfitta con Mincica che la mette dentro due volte nel giro di due minuti. Poi ci pensa Alma a mettere dentro la palla del 3-0 e infine il neoentrato Mallia che firma il poker per la squadra di casa. E a fine partita Flavio Centamore ha raccolto la testimonianza dei protagonisti Cordoglio per la scomparsa del suocero del direttore generale del club Biancazzurro. Sentiamo. Mister contava vincere oggi. Il Gela c'è riuscito nonostante espulsioni difficoltà ma comunque tre punti meritati da parte della sua squadra. Sì tre punti meritati per quello che abbiamo creato io penso che oggi abbiamo creato quasi 20 palle e gol per una squadra di eccellenza che crea 20 palle e gol è giusto che ne vale il biglietto ritengo che è stata una partita importante contro l'avversario che fine domenica scorsa era capolista per cui merita da grande rispetto una squadra messa bene in campo che si chiudeva bene tutti i ritrovati nella palla con la grande convinzione di usare quelle ripartenze micidiali che possono essere delle grandi polpette avvelenate che magari noi abbiamo studiato abbastanza bene abbiamo frenato insomma tutti i loro attacchi è un Gela che adesso dovrà fare almeno di pedine importanti per le prossime gare come Russello Runza sì è chiaro che rimane in rammarico soprattutto dal fatto stesso dell'espulsione di Runza che secondo me ritengo ingiusta perché forse magari non lo so tutto questo parapiglia creato nel sottopassaggio è dovuto a un giocatore di loro insomma c'è già espulso dall'Abil che va a provocare noi con la grande convinzione insieme al portiere Bevilacqua che ho detto prima ai tuoi colleghi che ingiustamente è stato espulso per cui ci ha anche avvantaggiato in questa discesa della vittoria il cielo ha fatto la sua onesta partita ha vinto ci ha dato 4 gol quindi gli dobbiamo fare un plauso però sicuramente la partita non ha sicuramente tutto l'andazzo è stato per forza di cose è cambiato durante il primo tempo durante la fine del primo tempo dopo quel parapiglia che è successo che devo dire la verità è successo pure per colpa di un mio giocatore che era stato espulso precedentemente e poi la cosa è dilagata un attimino però voglio dire se non fosse successo quello secondo me la partita era un'altra e non penso ci siano 4 gol fra il Gela e il Dattilo e sicuramente lo dimostreremo già dalla prossima giornata con il Campofranco in casa come ha visto oggi il Gela come lo vedrà? no vabbè il Gela è una grande squadra un grande allenatore hanno un ottimo organico sicuramente potenziato da adesso dall'arrivo di Caci e da Russello magari andando lì a sopperire dove loro avevano qualche problema quindi sono convinto che fino alla fine si giocherà nel campionato col Mazzara e con la San Cataldese che sono secondo me le tre squadre da battere il presidente del Gela Calcio ha voluto esprimere il messaggio di cordoglio nei confronti del direttore generale del club Biancazzurro Vincenzo Cannizzaro che ieri mattina ha perso per una grave malattia il suocero Angelo Gambuto io sono qua per dichiarare la nostra vicinanza alla famiglia Gambuto e alla famiglia Cannizzaro per la scombarsa del povero papà di Congetta oggi stamattina qui all'ospedale di Gela per cui abbiamo avuto una giornata atroge perché il nostro Gela oggi è il lutto perché siamo vicini a queste due famiglie e volevo semplicemente dirlo ufficialmente così Nel campionato di promozione trasferta a Mara per l'Atletico Gela la formazione giallorossa è stata infatti battuta per 3 a 1 dal Canicattì perde tra le mura amiche anche il Macchitelle i particolari in questo servizio Colpaccio dell'Aragona che sbanca lo sedio Presti battendo per 3 a 2 i padroni di casa del Macchitella Gela nell'anticipo della 14esima giornata di promozione gli Aquilotti rimediano la seconda sconfitta di fila e vedono il sogno playoff allontanarsi ad 8 lunghezze nemmeno l'uomo in più per gran parte del secondo tempo è servito ai biancorossi per ritornare al successo puniti per ben due volte da Lapis su calcio di punizione e dalla rete di Salemi alla squadra di mister Mirko Fauciana non è bastata l'ottima prova dei suoi ragazzi e le reti di Castania e Caruso per portare a casa la vittoria Macchitella che adesso dovrà rimettersi sulla strada giusta e guardare alle squadre che inseguono anziché a quelle che la precedono è un'occasione sicuramente persa questa di oggi uno scontro importantissimo contro questa Aragona che ci ha fatto faticare non completamente abbandonato perché la classifica resta sempre molto corta come abbiamo visto sono abbassate le vittorie consecutive del Macchitella per ritornare nella zona alta adesso però si deve riprendere un po' l'andazzo che si è perso in queste ultime due partite questa voglia di riscatto dei ragazzi è una maggiore concretezza sicuramente sottoporta recupereremo per la prossima partita Raffaele Iudice per non molto importante per il centrocampo la sostanza si è fatta sentire anche abbastanza però c'è ancora molto da lavorare il rischio purtroppo di avere molti ragazzi in squadra anche se non tutti under molti del 94 e del 95 è anche questo delle partite che non riescono per come dovrebbero però siamo convinti io così come tutta la dirigenza che questa è la strada migliore da percorrere oggi abbiamo raccolto niente però abbiamo giocato bene questo non significa che vanno demoralizzati i ragazzi perché hanno fatto una buona prova capita a perdere queste partite speriamo di non di non perderne più anche perché avevamo preso un bel filotto di vittorie e questo significa il secondo arresto consecutivo il che devo riprendere un po' l'entusiasmo all'interno dello spogliatoio perché oggi non basta soltanto la bella prova oggi li volevo più cattivi sotto porte non lo sono stati alcuni incidenti di percorso però alla fine diciamo che l'ho vista vedo il bicchiere mezzo pieno d'altronde i ragazzi danno sempre il massimo dentro lo spogliatoio e in campo significa che il gruppo c'è la squadra c'è oggi abbiamo perso una grande occasione per fare diciamo così la zambata dentro i playoff ora ci dobbiamo guardare invece dalla essendo la classifica molto corta ci dobbiamo guardare invece dalle zone basse della classifica prenderà il via domani la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa Sergio Vespertino Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo scarrozzo Giuseppe Castiglia l'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro mentre il singolo spettacolo 15 euro il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 domani primo spettacolo alle 21.15 con Gianni Nanfa continuano anche gli appuntamenti con il grande jazz al teatro comunale Eschilo di Gela giovedì 17 dicembre concerto di Antonella Ruggero venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio con Cato l'inizio degli eventi è previsto per le 21 per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 per informazioni ci sono anche dei numeri di telefono 0933 911 892 oppure 345 588 0580 ancora spettacolo il teatro è Leone al Basilico con l'informazione cinematografica e il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella sono 3 gli orari di rotazione della pellicola 17.30 19.30 e 21.30 e infine lunedì 28 dicembre alle 21 la compagnia teatrale Antidoto porterà in scena Nabrisco la commedia in tre atti di Tiziana Guarneri la regia è affidata a Giancarlo Bella bene termina qui questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui vi ricordiamo che notizie, servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale web all'indirizzo www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato grazie e buon inizio settimana a tutti grazie a tutti grazie a tutti